Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo breve video, dove il successo del video, dove vi chiedevo se voi livate la cardina su FIFA 11, ho deciso di livarla, però sono indecisi tra 4 squadre, così ho fatto un sondaggio, votate qui sotto nella descrizione. Spero che questo... spero che non sia stato troppo lungo questo video. Ciao!